Da questo lato i due volgimenti sono stati messi in serie, come vedete il terminale blu è collegato al terminale nero dell'altro volgimento e sono stati lasciati liberi un nero da una parte e un blu dall'altra, mentre da questa parte sono stati messi in parallelo i due blu e i due neri. Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono il W2FND, Lucio, ed oggi vedremo come costruire un trasformatore di impedenza larga banda per le HF 50-200 Ohm. Durante la realizzazione, che farò passo a passo, le scelte verranno motivate in modo da aumentare le competenze di chi lo realizza. Le tipologie per realizzare un balloon 1.4, cioè da 50 Ohm a 200 Ohm, sono sostanzialmente tre. La prima la vediamo qua nella diapositiva. La diapositiva rappresenta una linea coassiale da 50 Ohm che porta la radiofrequenza all'antenna. Il polo caldo di questa linea qua viene collegato subito all'antenna, mentre l'altro polo dell'antenna viene collegato passando attraverso uno spezzone dello stesso cavo da 50 Ohm, lungo l'andamezzi. Questo perché il segnale che arriva al polo caldo direttamente ha questo andamento, mentre se noi ritardiamo l'arrivo della sinusoide all'altro polo di l'andamezzi, vuol dire che sfaseremo la nostra onda esattamente di 180 gradi. Questa linea qua introdurrà un ritardo lungo T mezzi, cioè del periodo, metà del periodo. Così facendo troviamo che il gap dell'antenna sarà alimentato da una parte con l'onda positiva, mentre dall'altra con l'onda negativa. In questo modo noi avremo ai capi di questo balloon il doppio della tensione che si presenta al primo capo rispetto, ovviamente, rispetto a massa. La lunghezza si trova abbastanza facilmente con la solita formuletta, che è questa qui. La lunghezza d'onda, lambda, è uguale al velocity factor per la velocità della luce fratto la frequenza di utilizzo. Il fatto che questa tipologia di balloon dipenda dalla frequenza lo rende sostanzialmente monobanda. Questi balloon sono abbastanza pratici nelle bande VHF e UHF. Perché nelle HF-? Perché sostanzialmente la lunghezza d'onda, quindi questo tratto, questo spezzone di linea da 50 Ohm, diventerebbe molto lungo. Pensate, non so, ai 40 metri, mezza lunghezza d'onda sono 20 metri, anche se lo moltiplichiamo per 66, 0,66 velocity factor di un cavo in polietilene diventa troppo lungo. La seconda tipologia che andiamo ad esaminare è il balloon di tensione o di Routroff. Il balloon di Routroff è piuttosto comune ed è realizzato in questo modo qua. Come vedete, dallo schema elettrico, che è questo qui, risulta che si tratta di un autotrasformatore, dove l'avvolgimento comune è quello di primario, questo qui, mentre l'avvolgimento serie è quest'altro qui. L'avvolgimento serie è disposto in maniera che la tensione in uscita sia il doppio della tensione che si presenta qui al primario. Se la tensione in uscita è doppia, la corrente al secondario ovviamente sarà la metà. Il rapporto tra la tensione in uscita, cioè quella al secondario, fratto la corrente al secondario è esattamente 4 volte e il rapporto della tensione in ingresso fratto la corrente in ingresso. Pertanto il rapporto di trasformazione delle impedenze sarà 1 a 4. Questa tipologia di balloon hanno una banda passante piuttosto bassa. Perché bassa? Perché sostanzialmente il polo caldo di ingresso sul primario si presenta senza alcun ritardo in uscita sul secondario, mentre invece il secondo polo in uscita viene ritardato da questo percorso qua che passa attraverso l'induttanza, quell'altra e quell'altra induttanza. Così facendo si arriva ad avere delle condizioni di sfasamento tali che riducono la banda passante. Infatti se una arriva subito e l'altra arriva dopo un po', si hanno delle condizioni di frequenza in cui le due onde si possono addirittura cancellare. Pertanto la banda passante di questo balloon di tensione è più bassa del balloon che andremo a vedere tra un attimo. La terza tipologia di balloon è quella di corrente o di guanella che è poi la tipologia che noi andremo a realizzare. Il balloon di guanella è stato realizzato ben dieci anni prima rispetto al balloon di Rutroff che abbiamo appena visto. Questo qui è un balloon che è stato realizzato nel 1945. Com'è fatto? È costituito sostanzialmente da due linee di trasmissione, la prima linea di trasmissione e una seconda linea di trasmissione, avvolte attorno ad uno stesso nucleo magnetico. Ma non è necessario che sia un unico nucleo magnetico, potrebbero essere anche due nuclei magnetici, dipende un po' dalla tensione. Guanella ha individuato questa linea di trasmissione, avere un'impedenza caratteristica che è la media geometrica tra l'impedenza di ingresso e l'impedenza di uscita. Quindi l'impedenza caratteristica della linea da avvolgere, Z0, sarà il prodotto in questo caso da 50 Ohm per 200, che fa esattamente 100 Ohm. Il meccanismo è piuttosto semplice. Se la linea ha impedenza 100 Ohm, qui la mettiamo in parallelo, due linee in parallelo e avremo praticamente 50 Ohm. Da questo lato qua invece le metteremo sul secondario in serie e otterremo la porta bilanciata che sarà la somma delle due impedenze. Quindi questo è un po' il concetto di fondo. Elettricamente il dispositivo è anche lui un autotrasformatore, ed è questo qui, un autotrasformatore perché, come vedete, l'avvolgimento comune è questo qui, è questo qua dove scorre la corrente comune, mentre invece l'avvolgimento serie, che in questo caso sono due, è questo qui e questo qua. Quindi gli avvolgimenti serie sono questi due qua, questo e questo qui. Negli avvolgimenti serie ovviamente scorrerà metà della corrente che scorre nel primario e la tensione sul secondario sarà due volte la tensione primaria, in modo che il rapporto di trasformazione sia sempre 1,4, il rapporto di trasformazione dell'impedenza è 1,4. Perché si usano gli autotrasformatori? Beh, perché gli autotrasformatori permettono di sfruttare al meglio la ferrite, cioè il magnetico, perché nell'avvolgimento comune, questo avvolgimento qua, scorre praticamente la differenza delle due correnti. Quindi questa corrente primaria un po' andrà di là e un po' andrà di qua. Quanto andrà di là, quanto andrà di qua? Beh, se qui ne va la metà, qui va l'altra metà. Quindi è giocoforza che questa corrente sia la metà di quella primaria. Così facendo, i fili potranno essere utilizzati di sezione più piccola, ma soprattutto il flusso magnetico all'interno della nostra ferrite sarà più basso. E quindi con la stessa quantità di ferrite potremmo far transitare potenze più elevate. Come potete vedere, in questo caso qui, non c'è il problema che abbiamo visto nel balloon di tensione. infatti le due sinusoidie, sia quelle sul polo caldo che sia quelle sul polo freddo, sono entrambe ritardate allo stesso modo da questi due volgimenti che hanno tutti lo stesso numero di spire. Per realizzare il balloon di corrente di guanella dobbiamo necessariamente percorrere sette passi. Il primo passo è quello di scegliere la ferrite migliore. Il secondo occorrerà decidere il numero di spire. Il terzo, trovare l'impedenza Z0 caratteristica della linea da utilizzare. Il quarto, scegliere la sezione del filo, o quanto grande. La quinta, verificare la ferrite che non si vada a saturarla. Il sesto, la realizzazione vera e propria del balloon. E il settimo passo è quello di testare il balloon con un network o con un VNA. Il primo passo è scegliere la ferrite migliore. Come abbiamo già visto nel video precedente che vi lascio in descrizione. La ferrite migliore è la 61, quella di grado 61. Infatti, questa presenta una permeabilità magnetica mu primo piuttosto piatta fino a frequenze abbastanza elevate, fino a 30 MHz. E la permeabilità mu secondo, cioè quella che procura perdite nel materiale magnetico, è abbastanza contenuta fino a 20 MHz. Volendo realizzare un balloon 1.4, cioè un 50-200 a partire dai 7 MHz, ritengo che la ferrite migliore sia la 61. La permeabilità magnetica della ferrite 61, intorno ai 7 MHz, è di 125. Non è molto elevata, ma comunque ritengo che possa essere sufficiente. Il secondo passo è quello di decidere il numero di spire. Per fare ciò, dobbiamo far sì che l'impedenza di magnetizzazione che presenta l'avvolgimento primario alla linea che lo alimenta il trasformatore, cioè il balloon, deve essere almeno 5 volte l'impedenza caratteristica del primario, che di solito è uguale a quella caratteristica della linea di trasmissione. E ciò deve avvenire alla frequenza minima di lavoro. Frequenza minima di lavoro. Eccola qua. Nel nostro caso abbiamo la linea di aduzione di 50 Ohm, quindi l'impedenza di magnetizzazione del primario dovrà essere almeno 250 Ohm. A noi faremo ovviamente di più. Mentre il tutto dovrà avvenire a 7 MHz, che è l'impedenza minima che abbiamo intenzione di utilizzare il balloon. Ora, io non ho trovato calcolatori online, però la cosa, le formule sono abbastanza semplici. dobbiamo trovare prima l'induttanza di magnetizzazione L con M e per fare ciò dobbiamo dividere l'impedenza di magnetizzazione X con M questa qua XL con M diviso 2π greco la frequenza minima. Facciamo questo conticino e moltiplichiamo per 10 alla 3 in maniera che il risultato sia in nano Henry. Infatti, se noi mettiamo la frequenza in MHz dobbiamo necessariamente moltiplicare per 1000. Quindi, facendo il calcolino, saltano fuori 5.686 in nano Henry. Da questo dobbiamo risalire all'A con L cioè al fattore di induttanza. Il fattore di induttanza A con L è praticamente una forma un pochino più complessa ed è 4π greco per la permeabilità che abbiamo visto prima sul grafico per l'area della ferite che abbiamo intenzione di utilizzare fratto la lunghezza del circuito magnetico. Tutti i dati che troviamo sul sito file read e abbiamo visto prima. Facendo i calcolini salta fuori che 4π greco fa 12,57 la permeabilità mu primo era 125 e l'area A con E dell'E con E è 1,58 in centimetri questo qua in centimetri quadrati questo qui in centimetri 14,5 il risultato risulta in nanoerri per spire al quadrato il fattore di induttanza con L infatti per sapere l'induttanza occorre moltiplicarlo per le spire al quadrato noi abbiamo già l'induttanza che è questa qui vogliamo ricavare le spire e non ci resta che dividere l'induttanza per il fattore A con L mettere il tutto sotto radice e si ottene il numero di spire minimo alla frequenza minima 5686 diviso 171,2 dato che questi sono nanoerri questi sono nanoerri quindi è congruente il rapporto risulta 5,76 spire il primario dovrà avere come minimo 5,76 spire